Allora, qui Filiciac è inviato dei compagni di Porchette nonché Presidente. Allora, se non so se... Ragazzi, anche lui. Allora, i compagni di Porchette è una selezione a inviti gemellata con i ribolliti, modellata sui Barbarians, capito? Per cui bisogna avere una certa per esperienza. Allora, che... Per favore, Matteo, questo è coso serio. Allora, trent'anni fa... Fermatevi, trent'anni fa, Patti Smith, 1979, trent'anni fa, che cosa... C'eravamo, molti di noi eravamo lì, cosa ti ricorda? Ecco, qualche memoria, una cosa ti viene in mente? Io mi ricordo... Un anetto... Un anetto mi ricordo in Nica, con il ciao celeste... Celeste, vero? Celeste. Che arriva... 56.000 spettatori. 56.000 spettatori. La Vustocchitaliana. Vustocchitaliana. Porchette a spare. Arriva via e fa... Oh! Ma con chi c'è la Fiorentina stasera? Ecco, allora, allora, rivediamo un pochino i protagonisti di quell'episodio. Renzoni, quale fu il risultato della partita della Fiorentina? Va bene, via, saluta. Salute, salute, salute.